E' una situazione difficile, complessa, non è paragonabile a quella degli ultimi telemoti. L'accessibilità, la viabilità è completamente diversa. Comunque i volontari, gli operatori, i professionisti stanno qua, stanno lavorando, stanno tirando fuori le persone da sotto le macerie, non ci si ferma un attimo, però è una situazione veramente, veramente difficile. Aspettaccio! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.